È operativa all'ospedale Santa Maria Lescotte la nuova sala angiografica afferente alla radiologia interventistica diretta dal dottor Calmero Ricci. È il primo step della realizzazione del polo angiografico che sarà articolato su tre sale, due maggiori e una di backup, con un work in progress che riguarderà anche la neuroradiologia diagnostica e terapeutica diretta dalla dottoressa Sandra Bracco. La nuova sala, già in funzione all'8.2 piano 0, ha in dotazione un nuovo angiografo, un potenziamento tecnologico per i professionisti dell'azienda ospedaliera universitaria senese e per i pazienti dell'ospedale, come spiega il dottor Calmero Ricci. Cambia molto per i professionisti, cambia molto per i pazienti. A nome loro, ma a nome di tutta la cittadinanza, io ringrazio intanto l'azienda ospedale universitaria senese che ci ha messo a disposizione delle tecnologie all'avanguardia, proprio a questo scopo. Cioè, come migliorare noi per ottenere un risultato migliore, più veloce, più sicuro per i malati. Questa nuova sala angiografica ha una tecnologia all'avanguardia, è un angiografo di ultima generazione, che rispetto ai precedenti ci permette di fare delle cose ovviamente aggiuntive. Per esempio, possiamo effettuare delle biopsie sui pazienti con dei sistemi particolari, con dei software, si chiamano needle guidance, che per l'appunto, lo dicevo la parola, ci guidano esattamente sul punto che dobbiamo colpire, per intendersi. E questo chiaramente lo facciamo senza radiazioni ionizzanti o comunque riducendo molto le radiazioni ionizzanti e con una sicurezza che è sicuramente molto più elevata. Altre possibilità sono quelle del trattamento, per esempio, dei tumori del fegato, per cui sempre questa tecnologia ci permette oggi di guidare i nostri sistemi, le nostre guide, i nostri cateteri e quindi veicolare il farmaco che dobbiamo fare per le chemioembolizzazioni dei tumori del fegato in maniera molto precisa solo sulla zona malata, quindi solo sul tumore risparmiando tutto il fegato sano. Tutto ciò facendolo con un principio di salvaguardia del paziente per le radiazioni, perché noi lavoriamo su delle maschere che questa tecnologia ci permette di fare, per cui lavoriamo praticamente senza effettuare troppi raggi, senza emettere troppe radiazioni, che sono ovviamente dannose per il paziente, ma immaginate anche la mole di radiazioni che potremmo assorbire noi come operatori, quindi tutto il personale sanitario, che invece in questo modo si risparmia una grossa dose e in più facendo anche meno mezzo di contrasto ai malati. Quindi meno mezzo di contrasto, meno radiazioni, maggiore velocità, più sicurezza per i pazienti. O ancora possiamo immaginare i pazienti che vengono ad essere trattati per degli aneurismi dell'aorta toraca addominale, una patologia molto complessa, in cui l'aorta si sa è molto particolare, ognuno ha la propria, ognuno ha una specifica morfologia di aorta, in cui ci sono tanti vasi che originano dall'aorta stessa. Bene, questa tecnologia ci permette di vedere questi vasi, queste arterie che nascono dall'aorta in maniera molto più semplice e, ripeto, senza l'utilizzo di radiazioni analizzanti o di mezzo di contrasto. Quindi interventi più veloci, più rapidi, più sicuri, più sicuri per noi, ma soprattutto per il paziente. Nel momento in cui ci siamo resi conto, come azienda, che era il momento di cambiare la vecchia sala angiografica, perché cominciava ovviamente a diventare un po' vetusta, abbiamo immaginato come poter crearne una nuova, che è questa che vediamo qui oggi, senza interrompere la continuità assistenziale, senza che i pazienti sentissero questo problema. E lo abbiamo fatto in questo modo, mentre ora lavorando di qua andrà in ristrutturazione la vecchia sala angiografica, quando sarà pronta quella sala si trasferirà a una seconda sala su di essa e quindi a rotazione, alla fine di un anno, all'incirca tra 12 mesi, avremo un polo, un vero e proprio polo angiografico, con tre sale angiografiche, di cui due monoplanari, e vale a dire quindi body, per i pazienti che hanno patologie dal collo in giù, e una biplanare invece per i pazienti neuroradiologici.